Oggi era una seduta molto particolare, una seduta in cui all'assessore Verì si chiedevano alcune questioni nel merito soprattutto delle nomine dei direttori generali, sappiamo tutti che quella del direttore Zavattaro per quanto riguardava l'asle di Chieti si è bloccata improvvisamente, si era già fatto l'annuncio dopodiché Zavattaro pare abbia posto dei limiti e ci abbia rinunciato. Oggi hanno fatto, ieri hanno fatto finalmente le due nomine dei due direttori generali e quindi abbiamo chiesto all'assessore se è stato formalizzato, se c'è il risico che tornino ancora una volta indietro. Abbiamo poi chiesto per quanto riguarda il progetto di finanza per l'ospedale di Teramo qual è l'orientamento politico di questa giunta regionale. Fino a qualche mese fa alcuni esponenti di spicco di questo governo regionale erano fortemente contrari ai progetti di finanza. Oggi inspiegabilmente pare siano tornati invece di moda e l'assessore non ha detto che è contraria a tutt'altro. Comunque intende portare avanti quelli che avevano già una procedura avviata. Poi abbiamo trattato dell'intramenia all'interno degli ospedali. Il consigliere Taglieri ha sollevato alcune questioni molto delicate che abbiamo portato a conoscenza dell'assessore. Pare ci sia l'interferenza tra il servizio pubblico e il servizio intramenia. Uno dovrebbe essere successivo all'altro. Sembra che in qualche caso specifico c'è l'interferenza tra i due servizi. Uno blocca l'altro e questo non dovrebbe avvenire per legge. Quarto tema finale è stato quello della Sasi, l'ente gestore dell'acqua pubblica nel settore che va da Lanciano a Vasto. Quindi parliamo di tutto il Lancianese, di tutto il Vastese. Continua interruzione di fornitura dell'acqua. Quest'estate il centro di Vasto, San Salvo, Cupello, Montodorisio e anche il Lancianese hanno visto interruzioni d'acqua costanti, continue, ripetersi più volte in più settimane. Questo è inaccettabile soprattutto all'interno della stagione estiva. Abbiamo chiesto al Presidente Basterebbe quali sono gli investimenti che intende fare, qual è la programmazione e la progettazione sull'intera rete. Hanno preso degli impegni concreti, faremo un'altra seduta dove chiameremo il Governo regionale, chiameremo l'Ersi e chiederemo loro come e quali programmi intendono portare avanti nel corso dei successivi due anni.